un tossico dipendente entra in tabaccheria arriva lì tutto a barcolante e gli fa buongiorno volevo un pacchetto di canne e il tabaccaio gli fa ma guardi che questo non è un negozio di pesca ho capito gli spinelli gli fa i spinarelli fuma marihuana a melanzana dammi quello che te fumite